buongiorno è un buon inizio di settimana ognuno di voi leggiamo da matteo capitolo 11 versetto 28 e dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo venite venite la tendenza naturale di ogni uomo è di allontanarsi da dio così poiché siamo lontani da dio abbiamo bisogno di ritornare a me dio non propone una religione ma una persona gesù cristo e gli desidera mettersi in contatto con ciascuno di noi e lo può fare solo attraverso di lui voi dio ci interpella si indirizza direttamente a ognuno di noi e gli ama ciascuno individualmente e desidera salvarlo tutti gesù cristo non rifiuta nessuno offre la sua salvezza senza distinzioni di razza di età o di condizione sociale o culturale che siete affaticati forse siete stanchi della malvagità del mondo che vi circonda forse siete anche stanchi di voi stessi e del male che scoprite nel vostro cuore e oppressi ognuno ha le proprie preoccupazioni se è raro trovare qualcuno che le comprenda è ancor più raro trovare qualcuno che ci dia un aiuto concreto e io vi darò forse vi immaginate un dio esigente ma gesù cristo dà senza chiedere nulla in cambio la salvezza che offre gli è costata così cara che nessuno potrebbe pagarla gli è costata la vita quando è morto sulla croce riposo nella nostra vita spesso agitata abbiamo bisogno di riposo riposo della coscienza quando abbiamo la certezza che i nostri peccati sono perdonati ma anche il riposo del cuore quando gustiamo l'amore di gesù che il signore ci benedica grazie a tutti